Musica Questo in maniera molto chiara come situazione di emaginazione L'emaginazione è dovuta però da un punto di vista anche costituzionale Allora questo gruppo interreligioso ha visto immediatamente come Prima di tutto bisogna rivedere quelle leggi che riguardano la famiglia Che deprivano la donna di certi... O che regolano la donna in certi ruoli sociali Ma che in effetti ormai in questo contesto Evidenziano l'importanza di dar spazio alla donna Di quelli che sono gli ambiti politici Perché loro difendono quello che è ormai Quello che può essere il ruolo della donna educata Delle donne che hanno avuto una certa formazione Allora loro dicono in questo momento Queste persone che hanno una certa educazione Potrebbero essere le portavoci Quello che possono difendere un po' i diritti della donna Allora non solo vedono il problema Ma vedono anche come risolvere il problema Cioè dando spazio a quelle persone che hanno avuto una certa cultura ed educazione Anche se in Egitto abbiamo visto come al tempio di Susanna Mubara Si è dato parecchio spazio a quella che è l'alfabetizzazione della donna Perché in quel momento tramite quella persona Si è creduto dare un'educazione migliore alla donna Perché potesse coprire ruoli diversi nella società Andere un'educazione migliore alla donna Grazie a tutti 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 Grazie a tutti